eccolo qua questo è un programma che si chiama STIP un programma che quando ti addormenti calcola tutto il tempo che tu stai dormendo è che c'è non si accetta registra quando ti svegli tu ti vai ti sei svegliato se no se la senti e lui si sta registrando ma si chiude perchè ecco vabbè comunque sto ancora lavorando in background ecco qui il programma è questo SLEEP SLEEP ora ora faccio vedere aspetta SLEEP 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 questo si chiama SLEEP SLEEP ecco vedi sto lavorando e ti registra tutto stai dormendo quando ti svegli tutti i movimenti vedi adesso queste linee che salgono e sentono significa che ti sei svegliato eh vabbè va subito non si spinge la schiena ok penso che è chiaro adesso scusa ok 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 ok